Signori subito 8000 mi piace e acquisterò qualche gadget della squadra che ho scelto per fare la carriera allenatore Salve tutti ragazzi sono sempre Momenzo e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale Siamo tornati qua, finalmente l'aspettavate in tantissimi con il primo episodio della nuova carriera allenatore che ci sarà qui sul canale Perché qualche giorno fa è uscito un video dedicato al sondaggio per scegliere la nuova carriera allenatore E l'avete fatto ragazzi, avete votato perché ci sono stati più di 6000 voti e 2135 signori hanno votato Colchester Quindi come sapevate volevo iniziare la carriera allenatore dalla quarta divisione inglese Colchester e Stevenage sono stati lì affiancati Alla fine però il Colchester ha messo la quinta e ha praticamente bruciato lo Stevenage Però lo Stevenage aveva piaciuto quindi probabilmente il prossimo anno magari si potrebbe iniziare con lo Stevenage Quindi signori siamo qui dentro FIFA 20 con la carriera allenatore con il Colchester Sarà un percorso lungo ma credo e spero divertentissimo Mi aspetto sotto nei commenti tantissimi consigli da parte vostra perché questa è una nuova carriera Questa è una nuova avventura per me che ci porterà sicuramente delle grandi emozioni Ma soprattutto capiremo un po' come mi muovo in queste leghe basse Per cercare poi di andare a conquistare la Premier League e il mondo Come detto quindi subito consigli sotto nei commenti Lasciate un bel mi piace mi raccomando supportate la serie e acquisterò magari una sciarpa Una maglietta un cappellino del Colchester Perché ci dovremmo anzi perché sicuramente ci affezioneremo a questa squadra A questi giocatori e poi ovviamente si creeranno delle storie divertenti Lo spero Inoltre in descrizione ragazzi nel frattempo io vado avanti Non è vero non vado avanti In descrizione trovate il link per scaricare OneFootball mi raccomando Scaricatela applicazione calcistica che utilizzerò per seguire adesso ovviamente il Colchester Quindi mi raccomando se volete seguire tutte le vostre squadre preferite Andate a scaricare OneFootball dal link in descrizione Allora signori queste sono le aspettative della dirigenza Medie per quanto riguarda il successo in patria Dovremo assolutamente cercare di salire subito in League One Crescita giovani alta Abbiamo un milione e quasi 300 di budget trasferimenti Non ho inserito il 60% in più Ma ho inserito ragazzi il mercato globale Quindi avremo la possibilità di trovare dei bei giocatori Allora ovviamente difficoltà ultimate Esiste solo FIFA 4 minuti Non so se mettere euro o sterline ragazzi Io vi dico la verità per questa cosa qui lascerai l'euro Perché se no mi confondo Stadio del Colchester Allora ragazzi sapete che comunque questo stadio qui per la bassa lega Perfetto quindi vado a scegliere questo Senza ombre Con le tribune vicinissime Community giusto Stadium Ok Perfetto Applica ed esce Abbiamo scelto questo stadio Finanza di mercato attivo assolutamente Mentre per quanto riguarda la nazionale Per il momento No Qui attivo Perfetto ragazzi Si comincia Mamma mia Per quanto riguarda il nome dell'allenatore ragazzi L'ho chiamato Chester Provate a indovinare il cognome del nostro Chester Cole Eh ragazzi È così È così Faccio una carriera col Colchester Mi devo chiamare Chester Cole Ovviamente Poco ma sicuro Invito torneo per il campionato Come vi ho già detto sono emozionatissimo Perché è una nuova sfida Che non ho mai portato sul canale E io personalmente Non ho mai Giocato Da una lega così bassa E voglio proprio vedere Dove possiamo Arrivare Congratulazione Mr. Cole Andiamo agli inviti Questi inviti ci potranno essere Sicuramente molto Utili Per quanto riguarda Il Il budget Perché vincerlo Ci permetterebbe di Prendere un milione I 550 Ho preso questo Le squadre mi sembravano Oneste Ho visto anche un Bayern Però Per il momento abbiamo Colchester Stabike Football La Spezia Venezia Signori siamo dentro Siamo dentro Siamo dentrissimo Andiamo a vedere un attimo Le aspettative della dirigenza Giusto per capire Crescita giovani Allora Qui Per quanto riguarda La nostra primavera Vediamo se A seconda Di come va il torneo Per il campionato Vediamo se Acquistare subito Un osservatore Perché sicuramente Gli osservatori Sono molto importanti Però non volevo Strasfruttarla Non volevo Strasfruttarla Solamente in alcune zone Se siamo magari In difficoltà Fama del brand Molto bassa Fa il tutto esaurito In almeno 50% di partite Successo continentale Non abbiamo nulla Successo in patria Vinci il campionato Vinci il campionato Cavolo Mentre raggiungi I sedicesimi Di finale Per la FA Cup Avaccia Mica male Come obiettivi iniziali Tenere una stagione Con un margine di guadagno Ok Avremo da fare Avremo molto Da fare Quindi Per quanto riguarda Lo staff Primavera Come detto Per il momento Abbiamo Il nostro Osservatore Che costa Un 190 mila Perché Questo qua Da 4 milioni Chiaramente Non ce lo possiamo permettere Quindi questo Quasi quasi Si potrebbe anche Già prendere Come detto Quindi Via Vaio Non l'abbiamo Come detto Noi abbiamo 1 milione E 28 Di budget Trasferimenti Ok Adesso è arrivato Il momento Però di andare A vedere La squadra Titolare Allora Jerken È il portiere Titolare 34 anni Vediamo Mamma mia ragazzi Bramal 23 anni 64 Attenzione a Bramal Sicuramente Potrà essere Il titolare Vediamo poi Anche Gli altri Prosser Il capitano Difensore centrale E Eastman L'uomo dell'est E beh Effettivamente Si nota Si nota Nelle sue sembianze Poi abbiamo Jackson 28 anni Uh 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 Cosa ho visto Cosa ho visto Cosa ho visto Calmi 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 Allora Passiamo al mediano Comley 23 anni Mediano Ok ECC Molto giovani Abbiamo anche Stevenson Beh non è una squadra Di vecchioni Allora guarda qua Poi abbiamo Senior 22 anni ED 65 Di overall Non è male È poco ragazzi 17 anni Poco 17 anni Questo sicuramente Ce lo dobbiamo portare Fino alla fine Poi abbiamo Noobel Vediamo la velocità Di questo Di questo bestione Un metro e novanta Un esterno sinistro Un metro e novanta Va anche abbastanza veloce Dai non è malaccio 82 di velocità Accelerazione Ma Ma Vediamo la nostra prima punta Norris Vediamo le caratteristiche Del nostro Norris Voglio vedere anche La finalizzazione Se era possibile Beh non è Non è marcio Marcio Non è marcissimo 66 di finalizzazione Ragazzi siamo in quarta Divisione inglese Ok Bene Questa è La titolare Che ci Che ci mostra Il gioco Andiamo però a vederne La brosa Tutti i giocatori Perché come titolare Per il momento Non mi Non mi dispiace Sinceramente Allora vediamo un attimo I portieri Abbiamo Gerken Contratto in scadenza Fra 12 mesi Di già Cavolo Vos Vos ha un Overal Veramente Veramente Basso 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 Molto meglio Molto meglio Oddio Ma sono tutti in scadenza Ragazzi Molto meglio Sinceramente Ross Che ha già almeno 4 punti Overall In più Quindi Sinceramente Ragazzi Vos Lo metterei In lista No Lo metto in prestito Vos Forse No Mettiamolo in lista Trasferimenti Ok Per quanto riguarda Il terzino sinistro Abbiamo Bramal E Clampen Clampin 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 Credo Bramal e Clampin Che possono essere tranquillamente titolare e sostituto Andiamo a vedere un attimo La difesa Abbiamo l'uomo dell'est Poi abbiamo Prosser Che è il capitano Giusto Che però è in scadenza Fatemi pensare Fatemi sapere poi ragazzi Anche chi rinnovare Chiaramente Magari voi li conoscete già anche questi giocatori Collins Poi abbiamo Cansdale O quanti difensori Beh io ragazzi Sinceramente in difesa Non andrei a toccare praticamente nulla Perché abbiamo Esperienza Data dall'uomo dell'est E il capitano Prosser Il resto College Può fare anche il terzino destro Il terzino sinistro Quindi top Il resto Abbiamo dei giocatori Da far crescere Assolutamente Che non sono marcissimi Dai questo ha 17 anni Ci sta Terzino destro Perfetto ragazzi Guardate Terzino destro Abbiamo Jackson E abbiamo anche College Che appunto può fare il terzino destro Quindi vediamo Magari College Si può anche dar via Per acquistare Un terzino destro Visto che Per quanto riguarda la difesa Appunto L'uomo dell'est Prosser Cansdale Sicuramente E anche Sounmi Quindi ho College Forse Per il momento Lo aggiungo Alla lista trasferimenti Perché effettivamente È quello che mi convince di meno Considerato che lui Ha 17 anni Sounmi Invece non è niente male Sarebbe da far giocare lui Forse al posto di Al posto di Di Prosser Ragazzi Sounmi tanta roba Andiamo a vedere Il centrocampo Mediani Lapsley E Comley Anche lui In scadenza Oi ragazzi Poi abbiamo Ogedi Uzokwe Come esterno sinistro Poi Noble E Heriot Perché non gioca Heriot Titolare Heriot sarebbe da far Giocare titolare Ragazzi Secondo me 25 anni 66 Guardiamo anche Gli altri centrocampisti Abbiamo Stevenson E Pell Allora Vediamo un attimo Gli esterni Ragazzi Forse Noble Però Noble Può fare anche la punta Può fare anche la punta Quindi teniamolo qui Un secondo Stevenson Pell Pell Per il momento Potrei anche Robbo Non lo so Adesso stiamo così Poku ragazzi Fenomenale Gambin Trequartista Questo lo mettiamo in vendita Ragazzi Si può Far qualcosina Forse con lui E Nei commenti Mi avete detto Che Asanalli È assolutamente Da tenere Far crescere Quindi abbiamo Una coppia Di trequartisti Veramente Veramente Di prospetto Andiamo a vedere All'esterno Destro Allora Abbiamo Michael Fernandez Vent'anni Poverino Può essere utile Ma quell'overall lì Lo stoppa Veramente Senior Ci può stare Però in scadenza Ditemi anche Fatemi sapere sotto Nei commenti Ragazzi Chi riscattare Dopo questa Visione di squadra Cowan Hall Ci potrebbe dare Una mano Vista l'esperienza E l'overall Però per il momento Abbiamo Questo Senior Che è 65 E Nor Abbiamo Eh ragazzi Non lo so Fernandez Lo vedo male Fernandez Lo vedo male Può fare un sacco Di ruoli Ma lo vedo male Sinceramente L'ho aggiungo Alla lista Trasferimenti Andiamo a vedere L'attacco Norris Robinson Che è in prestito E Hintz Che è in prestito Quindi ragazzi Un attaccante Ci vuole Perché Norris Secondo me Non può far tutto E questi sono tutti Sono tutti due In prestito Andiamo a vedere Se ci sono Delle Clausole Rescissorie Sulle nostre giocatori Hanno un valore Imbarazzante Comunque Hanno un valore Veramente Imbarazzante Ok Perfetto Ci siamo fatti Un'idea Abbiamo un sacco Di giocatori Da rinnovare Ragazzi Sinceramente Allora Mi dispiace un po' Subito mettere In panca Prosser Ragazzi Però Il nostro caro amico Sunmi Ha 23 anni E ha un punto Over all in meno Quindi Eastman per il momento Capitano Poi Jerken Va bene Jerken mi sembra Sinceramente Una sezione Porno Poi Brahma Il titolare Assolutamente Per quanto riguarda Jackson Abbiamo come detto Solo College Quindi un terzino destro Potrebbe assolutamente Servirci Ragazzi Assolutamente Qui abbiamo Stevenson E Comley A centrocampo E c'è E c'è Anche Assolutamente Sul pezzo Lapsley Pell E basta Decisamente Basta Weir E Canesdale Come difensori centrali Non sono assolutamente Da buttare Mentre College Lo metterei Assolutamente Qua La squadra è Molto completa Comunque La squadra è Molto completa Assolutamente Pell può darci Una mano E lo mettiamo Qua Senior Che è Destro Però 22 anni Ragazzi Senior Va fatto giocare Senior Va assolutamente Fatto giocare Ogedi Qua Ha un'ottima Velocità Ragazzi Quindi io Per il momento Ogedi Al posto Del nostro Caro amico Noble Io lo butto Lì Noble Qua Il bestione Ce lo portiamo Dietro Magari Qualcosa si può Qualcosa si può Assolutamente Sistemare Qualcosa si può Sistemare Bisogna capire Anche un po' Realmente i valori In game Di questi giocatori Primo riso conto Osservatore Piacere Piacere mio Vabbè Subito Proprio gente Ok Dobbiamo andare A sistemarla Il riso conto Dell'osservatore Dobbiamo andare Assolutamente A sistemare Quindi ragazzi Subito nei commenti Chi Rinnovare Quando Magari Riprendere L'osservatore E anche Magari Come sistemare Il mercato Globale Io andrei Un attimo Nella sezione Allenamenti Prima di Iniziare Ad avanzare E inizierei A fare gli allenamenti Purtroppo Questi attaccanti Non possono Assolutamente Crescere Questi esterni Invece Io non darei Allenamenti A Fernandez Ma lo darei Uno a senior Ne darei Dato che giochi Lì però Finalizzazione Può essere Importante Poi I trequartisti Ragazzi Assolutamente Trequartisti Poku E Asanalli Assolutamente Poku E Asanalli Dribbling Devi essere Devi essere Un fulmine Lì in mezzo Poku Devi essere Un fulmine Vediamo Asanalli Finalizzazione Passaggio Corto Cioè Finalizzazione Più che altro Gli altri Centrocampisti Purtroppo Lapsley Insomma Andiamo dai Difensori Centrali Vediamo Weir Come lo facciamo Crescere Non ha Grandi margini Però ha 17 anni Ragazzi Cioè non ha neanche La freccetta Che sale in su Però ha 17 anni Come detto Quindi Può essere Importante Terzini Bramal Non so se cresce Proviamo ad andare Non so neanche Se puntare Sugli allenamenti A clamping Io ragazzi Io ragazzi Sto Poku Qui Io ragazzi Gli do il doppio allenamento A Poku Eh Mi sa di si Simuliamo Peccato Non è cresciuto Subito Sarebbe stato Sarebbe stato Bello Sarebbe stato Molto bello Adesso Ne approfittiamo Ragazzi Per sistemare La rete Mercato globale Qui abbiamo Ben Quattro Osservatori Per quanto riguarda Le istruzioni Dell'attaccante Avevamo messo Ruolo Va bene Attributi Veloce Prolifico Minacera Mentalità Offensiva Box to box Io direi Ragazzi Di cambiare Prolifico Ma ci può stare Promettente Forse più che Prolifico Vabbè Io gli abbasserei Molto l'età Ragazzi Sinceramente Gli abbasserei L'età Metterei 22 23 anni Perché Sì Ma Ma Sapete che Li cercherei pure Giovanissimi Ragazzi Li cercherei pure Giovanissimi Così possiamo Portarcelo dietro Così possiamo Portarcelo dietro Vediamo 16 18 Contratto Va bene così Io andrei a cercare Adesso Un Terzino destro Magari Box to box Crossatore preciso Ci proviamo Qui Per quanto riguarda L'età Resterei comunque Basso E andrei A mettere Ma Se è esperto Va bene anche così Sinceramente Contratto Perfetto Anche così Poi Quest'altro Scusate Andrei A Non dargli Nessun ruolo E metterei Contratto In scadenza Perché ci potrà Essere Assolutamente Utile Per quanto riguarda L'età L'età Invece Ci teniamo Sempre Sui 28 Anni Perfetto Avremo Un altro Osservatore Ragazzi A questo punto Abbiamo un altro Osservatore Da poter utilizzare Quindi magari Fatemi sapere Cosa Fare Per il momento Mi sono mosso Mi sono mosso O mi sono mosso È la prima volta Che parto da una serie Così Pensavo che la squadra Pensavo che la squadra Fosse messa Molto peggio Ragazzi Invece sono degli elementi Che potranno arrivare Anche quasi A fine Oddio Fine no Ma Poco e E Asanali Sicuramente Ho notato che il capitano Scelto per la prossima partita Contra la squadra La spezia È poco carismatico La suggerire di Consegnare la fascia È Harry Pell Ma Pell non gioca Pell non gioca Histman Salve mistero Nome di tutta la squadra Le do il benvenuto Entusiasta Assolutamente Per il futuro Sono felice Che abbia deciso Di cedermi Non mi sono mai Collins Collins Siamo Collins Subito così Mi sto guardando intorno Non è che hai Sono felice Che abbia Vos Non mi ricordo neanche Chi tu sia Sono felice Che abbia Fernandez Mi sto guardando Ma Fernandez Ma così arrabbiati Subito ragazzi Mamma mia Mamma mia Quindi Quindi Pell Pell Mi hanno detto di dare La fascia a Pell E diamo sta fascia a Pell 27 anni No no Vado subito contro la dirigenza Ragazzi Subito contro la dirigenza La fascia resta L'uomo dell'est Senza dubbio Senza dubbio Perfetto raga Io andrei a giocarmi Questa partita Contro la spezia Me la andrei a giocare Sì 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 raga Guardalo lì Texo Subito con la nostra Madonna chi è il nove Lì così bestione Signori Questa è la formazione Per il momento Titolare Gli unici dubbi Che ho Così È vedere Questo Ogedi Uzukow Uzukow Ogedi Ogedi Ti posso chiamare Ogedi Dai Facciamo così Ogedi Corre abbastanza Un esterno sinistro Un pochettino più forte di questi Forse Potrebbe Servire Ragazzi Potrebbe servire Quindi il prossimo La prossima istruzione Da dare all'osservatore Potrebbe essere Un esterno sinistro Esterno destro Box to box Magari Box to box Non mi ricordo più Come si gioca a FIFA Scusate Va là Io qua non so neanche Che piedi hanno questi Allora Norris Abbiamo detto Che è destro O Poku Può fare Urca boia O Poku Può fare anche l'esterno Ragazzi Può fare anche l'esterno O Poku Forse Spostare O Poku A destra E Asanalli Come dragortista Potrebbe essere Una cosa giusta Mancino Destro Senior Destro Stevenson Invece Comley Sono destri Quindi l'unico sinistro L'unico mancino È E Poku Occhio qua Bravo Jackson Però la lascia Gli occhio ricci L'uomo dell'est Ragazzi E poi il porno Attore Jerkian è chiaramente Un porno attore Ragazzi Senior Te mando a scuola Bravo Jackson Subito che spinge Attenzione Si fa vedere Si fa vedere Poku Jackson A corsa Dalla sua parte Bello l'inserimento Di Poku Jackson Però Fino in fondo Col destro Jackson E il destro Però qui Qualcosa Lascia desiderare Ma ricordiamoci Della chiusura Dell'uomo dell'est Ragazzi Junior Poku Attenzione L'inserimento Di Norris Lo prova da fuori Mevlia Si mette il corpo Madonna ragazzi Sono gasatissimo Stevenson Dalla bandiera Dove c'è Jackson Jackson Non va Occhio Se ne è andato Ricci Bramal Fa qualcosa Si Bramal Così sul pezzo Bramal Bravissimo Bramal Jerken Jerken Bravo Con i pugni Come solo tu sai fare Ci stanno fiondando Ragazzi Ci stanno fiondando Occhio Mamma mia L'uomo dell'est Ragazzi È sempre lì E Bramal Con che classe Eastman E poi si batte Le mani sul petto Mamma mia Junior ragazzi Che col c'è Chester Ripartenza Poku Oh corre Corre Attenzione al discernimento Di Norris Alle spalle di Vignali Si fa rivedere Poku Servito Poku Poku Col mancino Al centro Purtroppo Scoffet para Occasioni importanti ragazzi Molto bene questo col Chester Per ora Occhio qua Ricci Ma Eastman Dritto per dritto ragazzi Ha chiuso anche questa Eastman E poi Senior Per Norris È partito Il nostro puntero Norris 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 Non ce la fa La gioca al centro Dove c'è Senior Ragazzi Il col Chester È in vantaggio Con Senior Ripartenza Fulminea Norris non ce la può fare Ragazzi Norris non ce la può fare Mamma quanto è lento Norris Guardate Guardate Mamma mia Sembra un frigorifero Ragazzi Un frigorifero Norris E poi Senior E poi Senior Ragazzi Courtney Senior Ferma il primo gol Di questa Nuova stagione Di questa nuova carriera Allenatore Che già Che già ragazzi Mi sta dando Emozioni differenti Eh sì Senior è un esterno Differente Oh Jackson Sta attento Eastman Fenomeno vero ragazzi Comley E se adesso Prendiamo un po' di campo Ragazzi è finita Ancora Senior Si fa vedere Poku È un Poku stanco Però attenzione Niente da fare Fuori 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 Va bene Va bene Mamma mia Senior È Poku Ragazzi C'è spazio per Poku C'è spazio per Poku Lo prova da fuori Poku Dobbiamo migliorare La finalizzazione Perché se Poku Si trova spesso Davanti al portiere Bisogna che il mio trequartista Le butti dentro Quindi Poku Va allenato assolutamente In finalizzazione Mamma mia ragazzi Il nostro centrocampo Fa un filtro clamoroso Finisce col primo tempo Ragazzi Finisce col primo tempo Colchester Che sembra una squadra The Championship Ora Ah infatti il Bayern Monaco Era il 2 Incredibile Fuori Poku Dentro Asanalli Sono Molto Molto curioso Di provare Nobel Al posto di Ogedi Ogedi non mi ha Sorpreso più di tanto Però va bene lo stesso Sono le prime partite Lapsley Al posto di Comley E poi Io proverei Prosser Anche Vediamo se ci può dar qualcosa Al posto di Zwonmi Che si è comportato molto bene Occhio Jackson Occhio Jackson Ragusa Occhio Bravo Prosser Come viene Come viene Va bene Va bene Vai Stevenson Raga Dobbiamo uscire di qua Occhio a Prosser La lascia lì di nuovo Prosser Via sta palla Pornottore mio Grazie Poi Norris Per Asanalli Molto rapido Molto piccolino Però anche Bravissimi ragazzi Bravissimi Bravissimi Ma che squadra è questa Ma che squadra è questa Asanalli Scambio con Norris Un po' di confusione adesso Vai l'app Mamma mia Guardate noble Hop Così Il nostro gigante buono Poi Norris Fa partire senior Che oggi è sicuramente In partita Senior Al centro C'è Asanalli Servito Schifo Non ci sono le caratteristiche Tecniche per fare queste cose Mezzo Abbi pietà Di loro Occhio maggiore No Mamma mia Jackson È ovunque ragazzi È ovunque Jackson Poi attenzione Asanalli Asanalli Inserimento Di Robinson Che si ferma Attende l'arrivo di Qualche amico Arriva il gigante buono Bellissima questa palla Per Stevenson Signori Il Colchester la chiude 2-0 Gol di Stevenson Che anche lui Salta la bandierina Qui grande Grandissimi Grandissimi ragazzi Centrocampo Magnifico Centrocampo Magnifico ragazzi Stevenson Ha fatto una grande partita Fuori senior Che anche lui Ha fatto una grande partita Ragazzi Stiamo battendo Una squadra Di serie B Il Colchester C'è Il Colchester C'è ragazzi Ci sono Dei giocatori Niente male Dei giocatori Niente male Allora Proster Un po' Male Mamma mia Eastman Ragazzi Migliore in campo Senza dubbio Eastman Fantastico Il nostro uomo Dell'est Asanalli Se l'allunga Stevenson Si inserisce Va bene così Va bene così Ragazzi È finita Vinciamo la nostra Prima partita Che emozione Che emozione Colchester Spettacolo puro Spettacolo puro Questo Colchester Qua qualche occasione Il tiro di Norris Andiamo a vedere Andiamo a vedere un po' Di voti Ma sicuramente Eastman Devastante Ragazzi Eastman Devastante 8.3 Benissimo Stevenson Che ha giocato Un'ottima partita Centrocampo Insieme Però ragazzi Insieme a Comley Anche Comley Ha giocato molto bene Senior sulla destra Norris È stata una bella partita Veramente Veramente Ottime risposte Da parte di tutti quanti L'unico È Prosser Che lì in difesa Ha ballato un pochettino Quando è entrato Nelle prossime partite Devo provare Anche gli altri difensori Perché devo capire Di chi Di chi fidarmi Ragazzi Assolutamente Devo capire Di chi fidarmi Saremo contro il Venezia C'è arriva già Un'offerta per il trasferimento Di Vos Se non ero Il portiere Sì Cavolo Io l'accetto questa Io l'accetto Sono 100k Fai i butti Dicevo ragazzi Faccio già la formazione Titolare Per La prossima partita Giusto per capire Di chi mi posso fidare Bramal Per esempio Ho fatto una buonissima partita Proviamo anche Clampin Proviamo Adesso Poculo Terrei titolare Ragazzi Non rispore Perché gli altri Tanto sono in prestito Abbiamo Gambin Lo proveremo Cowan Hall Proviamo Heriot A sinistra Noble Può essere Comunque Anche come attaccante Proviamo Come attaccante Ragazzi Sto animale Il gigante Buono Sulla destra Io proverei ancora Senior Ragazzi Ma mi porterai Dietro anche Cowan Hall Volevo cercare L'ultima cosa Poi chiudo Ragazzi Lo giuro Osservatore in viaggio Va bene Grazie Volevo andare a vedere Un attimo Nella ricerca Dei giocatori Negli svincolati Se c'era già qualcuno Così ve li faccio vedere E nel prossimo Nel prossimo episodio Mi dite Se c'è qualcuno Di Interessante Allora Qui abbiamo Il fratello Dabaia Direi di no A questo difensore centrale Adesso per il momento Difensore centrale Non mi servono Ashraf Sembra carino Interessante Più che carino Che è Carino Questo Agnes Qui Forse Buon equilibrio Fammi vedere Un attimo Il resto Per quanto riguarda La Velocità Agilità E' un po' Una pippa Poi abbiamo Fratelli Bejarano Bejac Come attaccante Però Hanno una Certa Età Le Oblasi Ci sono sempre Gli stessi Ragazzi Questo Cristian Bravo Oh 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 Cristian Bravo Ragazzi E' bravo No Li ho utilizzati tutti Che stupidaccio Che sono Aspettate 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 Lo richiamo Lo richiamo Lo richiamo Lo richiamo Anche perché Quello lì è Quello lì è troppo bravo Questo è bravo Ah cavolo Quando torna Lo richiamo Quando torna Devo ricordarmi Assolutamente Cristian Bravo E' forte Raga Può essere Assolutamente Utile Può essere Assolutamente Utile Proprio perché E' un esterno Questo lo aggiungiamo Assolutamente Tra i preferiti Tecnica Oddio Tecnica Non è un granché Ha una buona Corsa Fammi vedere Un po' Sì ok Il resto Non è tanta Roba Il resto Non è tanta Roba Poi abbiamo 21 anni Carrasco Un attaccante Che mi faccia dire Orca boia No vabbè Caccheda però Caccheda Erasmus No Erasmus Direi proprio Di no Galindo Ginti Direi di no Anche perché Sulla sinistra Siamo a posto Grande Abbaia Sempre nel cuore Giustino Ah no Giusino 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 corre Come un dannato No Forza Giustiniano Per ora Siamo messi Bene In quella posizione Qui abbiamo Lewis Trequartista Che poveretto Per il momento Può anche star Dov'è Per il resto Patla Per il resto Questi non mi Sembrano un Granchè Fratelli Rai Pippe Clamorose Però Royos Velocità Scatto Può essere Anche 99 Questo Trequartista Qua Non sembra Malaccio Cerca di Nuova squadra Rus Ma è Romeno Per il resto Direi che qua Non c'è Altro Attaccare Kugiv Kugiv Sembra male Ovviamente Non lo prenderò Ragazzi Anche se Mi serve Un attaccante Questo Alvarez No Niente C'è Quello De Jong Che forse Non l'ho Visto Bene Per il resto Ragazzi Io direi Che mi Posso Fermare Qui Un paio Di giocatori Li abbiamo Messi E Poi Non Sembra Un gran Che Sinceramente Mettiamolo Comunque Nella lista Preferita E poi Ci pensiamo Nel prossimo Episodio Cercheremo Insieme Qualche Nome Perché Solitamente Io andrei a cercare Magari In questa Lega Andrei a cercare Magari In scostia Nei campionati Secondari Magari Però Per il momento Sono contentissimo Della mia rosa E qualcosina Però Andrei a sistemare Perché Un terzino destro Di riserva Lo prenderei E andrei a prendere Anche un esterno Sinistro Forse Un pochettino Più sul pezzo Non lo so Però Sicuramente Anche una prima punta Servirà Servirà Qualcuno Che possa dare Poi proveremo Anche Noble Servirà Qualcuno Che possa dare Un bell'impatto Noi ci vediamo Nel prossimo video Ragazzi Mi raccomando Mi piace Un commento Un consiglio E ci vediamo Alla prossima Ciao a tutti Ragazzi